Allora, lo sai che facciamo? Ci mettiamo il video di dentro al gelo. Se non fanno quelle che teflaviche in mezzo a San Vito, ci lavorano un po'? Eh, deve essere effettato, deve essere elettronico, un'opera elettronica. Eh, ma dopo si vede troppo che siamo... Deve essere qualcosa di... veramente. E' grande il resto. Questa è 4 Mega, pure a te qua. Quella mia è 3, ma adesso è pure Zaris. E' un po' di più. È un po' di più. In questo modo. E' un po' di più. In questo modo. Già si è messa? Si è messa Non sta a posto del Ving Sei vecchio qua E c'è una bella luce Sapete che erano vestiti? Per il cavallo Molossi controversi crocifissi Per il cavallo E' un'espechina Ma che c'è un'espechina Per il cavallo Si è messo Il cavallo È un cavallo A un cavallo